Per la prima puntata della terza stagione di Bel Tempo si spera, noi ci siamo fatti un regalo. C'è Clady, Clady Cadiu. Buongiorno, grazie, grazie, grazie. L'entusiasmo del pubblico, Clady. Grazie, grazie, grazie. Fa capire che tu sei uno di quegli uomini che hanno saputo seminare e stanno raccogliendo davvero, non soltanto dal punto di vista professionale, ma Clady, tu sei diventato papà di Lea da pochi mesi. Da, sì, da circa nove mesi. Nove mesi, com'è questa? Pupetta bellissima, tra l'altro. È molto bella, assomiglia alla mamma, meglio. Charlotte. Sono felice, siamo felici, stiamo vivendo dei momenti molto belli. Che papà sei, Clady? Sei uno di quelli che cambiano i pannolini, quelli presenti, quelli che delegano alla mamma, visto che poi siete due artisti tutti e due. Glielo devi chiedere alla mamma questo. Io penso di fare il meglio, insomma. Ovviamente è lei che sta di più con Lea, sì, anche il pannolino lo so cambiare. Ho imparato. E lo fai. E lo faccio, sì, perché mi piace. Che cosa speri per tuo figlio? Intanto guardiamo, sfogliamo con voi l'album fotografico, sono delle foto meravigliose, meravigliose. Questo è il battesimo che abbiamo fatto quest'anno, quest'agosto, quest'estate. Meraviglioso. Tu sei uno di quelli che sperano che tua figlia farà, seguirà le tue orme, le orme poi anche di mamma, insomma, una carriera artistica? Oddio, non lo so. Per come è messo oggi lo spettacolo, la danza anche, spero di no. No, speriamo poi che lei scelga quello che gli viene meglio, quello che gli piace soprattutto, senza la nostra spinta, insomma, ecco. Tu sei uno che è riuscito a fare nella vita quello che voleva fare fin da piccolissimo, Clédi. Tra un po' ritorneremo sui tuoi passi, torneremo anche alla tua storia. Permettici di fare un omaggio, perché non dico pochissimi, insomma, tutti sanno chi sei, ma le emozioni che regali, noi le abbiamo racchiuse in questa clip. Guardate qui. Grazie. Carino. Eh, credi, Gianni Bucai non poteva non mettere anche un pizzico di famiglia. Molto bello, ma la famiglia è la base, se non c'erano loro, insomma. E tu hai avuto una famiglia, Clédi, che ha capito che questo bambinetto di 5-6 anni, che era dotato di un talento naturale, andava aiutato e sostenuto. Quando hai capito che quella era la tua strada? Beh, loro mi hanno introdotto, poi diciamo che ho fatto tutto io, grazie ai miei maestri, che gli devo tutto il mio successo alla fine. Perché si è sempre parlato della fortuna, del successo, ma mai, insomma, mai. Chi vuole approfondire ti chiede qualcosa in più. Invece appena una persona ha successo si sofferma soltanto in quel punto di partenza. Invece c'è un percorso, è il percorso che poi è la cosa più importante. Lo studio quotidiano, i sacrifici, le rinunce. E devo dire che io ho vissuto questo momento di 8 anni, ovviamente a Tirana, al mio paese, e grazie a quei maestri io devo tutto, tutto a loro. Poi tutto il resto è venuto, ovviamente, incontri giusti, piano piano, però, insomma... Cledi, quelli erano tempi particolari nel tuo paese. Non c'era la libertà, c'era un regime. Però paradossalmente si era sostenuti nelle attività culturali. Chi voleva fare il ballerino, chi voleva studiare musica, era supportato, era aiutato. È vero, è vero, è vero. Diciamo che lo Stato, il governo, ti metteva a disposizione tutto. I mezzi, i maestri, l'accademia, in modo tutto gratuito. E ovviamente loro prendevano poi da te o da noi, andando a fare concorsi, oppure del tournée, primeggiare e portare in alto il nome del tuo paese. Questa era la mentalità, insomma, non soltanto dell'Albania, ma in tutti i paesi dell'est. Noi avevamo come grande sorella, insomma, maggiore, la madre Russia. Tutti i nostri maestri, cioè i miei maestri, venivano da quella formazione. E io sono, in realtà, sono molto felice e contento di aver vissuto, ecco, due mondi diversi. Anche di mentalità, ma anche di vita. Perché solo così capisco poi il vero sacrificio, quello vero, non soltanto teorico. Erano tempi di regole, allora, rigore e disciplina. No, hai detto bene, rigore e disciplina. E disciplina. La cosa che manca oggi, è vero, la democrazia e tutto il resto, però questa democrazia che ti fa fare tutto quello che vuoi, senza limite, senza regole, è quella che poi oggi ha fatto saltare tutti i parametri e non ci sono più i valori. Clare, tu capisci che quella è la tua vita, tra l'altro hai un grande talento che ti viene riconosciuto in patria. Tu quando arrivi in Italia non arrivi a cercare il pane semplicemente. E tu, la tua famiglia fa una scelta di libertà. Allora, sì, madre e patria. L'ho fatto io, senza il permesso della mia famiglia. Ecco, cioè, bravo. Come sempre. E tu, a un certo punto, che sei un testardo, te, fai le cose che dici e vai? Sono una riete, sono abbastanza determinato. Guarda che tua figlia potrebbe fare lo stesso, sei pronto a questo? Beh, forse è peggio, capricorno. Perché poi, tale padre, tale figli, quindi, insomma, ti devi preparare. Capisci che però quel fattore libertà che ti manca è per te un motore per cercare altro, per andare altrove. Quando è? Come decidi di venire qui in Italia? Ma in realtà era il fattore che rappresentava un po' tutti noi, tutto il popolo albanese. Io l'ho raccontato tante volte, in qualsiasi situazione, contesto, sia televisivo, ma anche così, tra amici. Ma semplicemente il fattore di guardare, di vedere e di non toccare con la mano una realtà che hai sempre visto come una cosa bellissima, e decidi, quando ti si viene data la possibilità, di assaggiare realmente questa realtà, che poi è diversa, oppure è cambiata, oppure è finta. Questo bisogna sempre provare. Per questo che dico ai ragazzi, tentate sempre, perché bisogna provare l'esperienza. Di cercare altrove. Sì, assolutamente. Ed è quello che hai trovato, Clady, è quello che avevi immaginato? Ti ha deluso qualcosa di questa realtà, fatta di cose che potevi vedere e toccare? No, in gran parte no, insomma, perché la struttura era quella, questa vista, insomma, non era che tutto costruito, quella che era la televisione, insomma, che era l'unico mezzo per avere un punto di confronto, di paragone. No, in linea di massima no. Poi vivendo impari che certe cose non sono come ti eri immaginato, insomma. Tu vieni qua con il tuo bagaglio di esperienza, rappresenti comunque il tuo paese e tu lo porti dentro. Così come tu dicevi una cosa, ti veniva chiesto anche di restituire quello che questo paese poi in un certo senso ti aveva dato. E poi fai grandi incontri, Clady, la vita di ognuno di noi è scandita da incontri importanti. Chi è il primo che in Italia ha creduto in te? Ma sono tante le persone, sono tante persone. Se io devo fare un punto, cioè una linea dei incontri, io ho iniziato inizialmente a Mantua, con una compagnia di Mantua, dopo il mio rimpatrio iniziale. Perché poi sei dovuto tornare. Sì, sì, sì. Ho finito l'accademia, poi venne questa compagnia di Mantua in quale feci un'audizione e ha preso otto ballerini albanesi. I miei colleghi sono venuti a Mantua e poi dopodiché il mio primo grazie glielo devo a Maria Grazia Torbol, che aveva una piccola compagnia in provincia di Rovereto, Mori, un paesino veramente piccolo. A lei devo il mio primo grazie, perché è lei che mi ha dato... Tu ricordi ancora nome e cognome, fa capire che questa tua gratitudine nei confronti dei maestri, nei confronti di chi ti ha veramente teso una mano, è bellissima. Poi sono passato a Verona, c'è stato un altro incontro con un regista, Corrado Abati, che aveva una compagnia, la compagnia di Giovane Operette, con la quale ho lavorato quasi tutta un stagione teatrale. E poi ho incontrato per la prima volta un mio collega che non c'è più, che l'ha nominato anche un mio, diciamo, libro autobiografico, Silvio Odi. E' lui che ho incontrato in uno stage di danza moderna, era il primo stage che facevo a Legnago, in provincia di Verona. E lui mi ha detto, Clady, tu potresti fare anche televisione, perché hai una dinamicità nel tuo movimento, sei espressivo, eccetera, eccetera. E da quel momento lì, insomma, ho fatto questa audizione, dove ho incontrato Brian e Garrison, nel lontano 96. Che ancora forse non era quello che noi conosciamo, insomma, famoso come lo immaginiamo, lo conosciamo adesso. E da allora ti si sono aperte delle porte. E da allora, sì, ho iniziato questo percorso televisivo, non lasciando mai il mio primo amore, il teatro. Ho cercato, insomma, di tenere tutte e due i binari. Tutte e due i binari, anche perché poi la vita non si sa quello che riserva. Poi a volte i successi, almeno quegli effimeri, possono passare. Poi quando c'è sostanza si vede che è costruito passo passo. Questi sono ovviamente incontri, tappe essenziali. E poi è venuto un incontro magico, quello che mi ha fatto veramente cambiare la mia vita in tutti i punti di vista. E un grazie, io lo devo a lei. Ma più che altro per la fiducia, perché non è una persona che ti regala così, insomma, semplicemente le cose. Per la fiducia che mi ha dato e poi l'altro ho saputo fare io, insomma. Credi, non ti sei mai montato la testa, non ti sei mai sentito arrivato. In fondo, in fondo, lasci casa, restituisci al paese e ai tuoi genitori i sacrifici che hai fatto. Sei famoso, sei clamato, basti pensare al pubblico come ti ha sanato stamattina qui. Ti inviene mai la sensazione di dire, o la tentazione di dire, adesso posso starmene tranquillo. Ho fatto, arrivederci. Eh ma dipende, tranquillo in che senso? Tranquillo seduto, non far niente? Ma no, nel senso, questo è il mio lavoro. Al di là del successo, non ho sacrificato, ho investito una vita intera per questa passione che continuerà fin quando il fisico me lo permetterà. E che tu stai dando ai giovani, perché adesso tu sei anche chi ha voluto mettere a disposizione tutto questo percorso di vita ai ragazzi, ai nuovi ragazzi, con delle accademie, con delle possibilità di imparare questo mestiere che poi ha anche uno spirito di vita, è un modo di vivere e rapportarsi proprio con la vita. Sì, sì, non si chiamano accademie perché è un termine che oggi... Ah, non si usa più. No, non è che sono usate, le accademie ce ne sono, ce n'è una, siccome oggi... Sono tutte accademie, ho capito dove... In Italia ci sono... Hai ragione. Fai prima a dire chi non ha una scuola di danza. Chi non ha una scuola di danza. Chi non ha una scuola di danza. Il rigore è anche nelle parole. Sì, 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 assolutamente. Giustamente. Perché io sono il primo che critico il termine perché ha un significato molto... L'Accademia, insomma, è San Carlo, l'Accademia, penso che sia la scala, no? Sì, di Roma, sì, assolutamente. Una scuola di danza dignitosa, ho scelto dei maestri... No, no, ma... Che fa onore questo. Non è né per vanto né per modestia. Vorrei, insomma, ecco, ho scelto un'equip di ragazzi giovani e non con esperienza, è importante che hanno esperienza. Esperienza. Che loro sono passati per il palcoscenico. E che danno ai ragazzi un percorso serio e professionale, che poi questi ragazzi diventeranno o non professionisti, perché oggi, come dicevamo, in Italia ci sono più fabbriche e pochissimi negozi dove vendere questo prodotto. Però è importante, ecco, che loro lo prendono anche come un percorso di vita, non è detto che per forza devono fare i danzatori. Clary, interessante questo discorso che fai, poi tra un po' ti vedremo di nuovo sulla scena, per uno spettacolo che riprende, tra l'altro, il 23 di ottobre. Genitori. I tuoi genitori come sono stati rispetto a quelli dei tuoi ragazzi? Credo che siano cambiati un po' i tempi. Sì, sì, sì. Hai toccato un argomento che io affronto automaticamente, non soltanto a Roma dove ho le scuole, ma anche in giro quando mi chiamano per insegnare, eccetera, eccetera. I miei genitori nel mio percorso accademico, che è durato otto anni, sono venuto il sì e no, non esagero, dodici volte in otto anni. Oggi si è creato un rapporto conflittuale tra genitori e insegnanti. Sicuramente io parlo del mio, cioè della danza, ma sentendo colleghi e conoscenti, insomma, è una cosa... Sì, è la stessa cosa. Che oggi i genitori si sentano di avere le competenze più degli insegnanti stessi. Deve essere un vizio, ma poi è diffuso, perché lo fanno a scuola e lo fanno anche con la ragazza. Succede anche, proprio perché c'è questo rapporto conflittuale, anche tra insegnanti stessi, delle scuole, che pur di avere e tenere i propri allievi nelle scuole, non si insegna più quel rigore che la danza ti... Cioè, in teoria sono tutti bravi, però con la pratica, piuttosto di tenere gli allievi, perché poi c'è l'altra scuola di accanto che ti ruba, a far virgolette, gli allievi. Vanno di moda questi complimenti a go-go, gratuiti, sei bravissima, sei bellissima, diventerai una star, i genitori si eccitano, si esaltano di questa cosa. Insomma, non c'è più... Beh, questa è una tiratina d'orecchie che si vede, intanto ti abbiamo visto anche con la nonna. Ah, la nonna è stata la colonna portante, è stato il pilastro importante, non solo per me, ma per la mia famiglia, è lei che ci ha cresciuti, è lei che ha fatto tutto praticamente, tutto. Io questa foto ce l'ho anche a casa, rimarrà sempre lì. E insomma, ecco, la persona di cui sono... ma chi poi? Cioè, chi non è legato alle nonne, ai nonni? L'Albania è molto più vicina all'Italia in questo di quanto non si creda nel vero senso della parola, il senso degli affetti familiari, il senso delle radici che non va perso. Sta di fatto che con quelle radici così salde, tu stai arrivando, sei arrivato dove sei arrivato, ritorni a proporre uno spettacolo straordinario, che ci porta anche, perché no, nel paese di Papa Francesco, anche se è una bella rivisitazione contemporanea, giusto? Guardate qui. Grazie. 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 Gledi, una rivisitazione senza uno stravolgimento, questo è lo spettacolo che racconta il tuo tango. Sì, infatti già la parola contemporaneo racconta i giorni oggi, insomma. È vero, senza stravolgere, molto delicati, perché oggi la contaminazione, va di moda usare questa parola, in cui qualsiasi persona può fare tutto, beh già la parola tango evoca passione, corteggiamento, insomma sensualità, è una disciplina che ha toccato insomma tutte le età, arriva a tutti, già la musica in sé stravolgente, insomma. Ed è uno spettacolo che sta durando nel tempo, questo fa capire. Sì, già da tre anni che siamo in tour, con il Balletto di Roma, è una compagnia con la quale io collaboro dal 2007, ho fatto altri spettacoli con loro, tutti ragazzi giovani, talentuosi, molto bravi. Insomma te li sei scelti a puntino. No, no, io sono ospite, non è mia. Sì, ma da quanto abbiamo capito, te non lavoreresti con la, come dire, con chi non abbia... No, no, loro hanno scelto me. Vabbè, ma insomma è così, te lo dico io. Senti Clady, tu hai messo la faccia, il cuore in tante belle iniziative, si dice generalmente di solidarietà, noi dobbiamo stare anche molto attenti, è solo di ieri la notizia di qualche giorno fa, insomma che qualcuno sta speculando anche quando si tratta di fondi per Amatrice, eccetera. Tu sei uno che ha fatto e fa tante campagne sociali, perché ci credi, in un certo senso ti domando se ti senti anche in dovere di restituire alla vita quello che tu hai avuto. Sì, brava, hai detto la parola giusta. Infatti in questo io mi sono sentito e mi sento molto fortunato e non penso perché. Non dovrei dare indietro, insomma, un minimo di quello che io ho avuto nella vita. Ovviamente sono casi molto più disperati, insomma, niente da paragonare a quello che ho passato io e altre persone come me. È per questo che quando mi viene chiesto... Se credi nel progetto lo fai. Assolutamente. Claudio, un'ultima domanda. Oggi è un giorno speciale, lo sai, oggi è il giorno per le vittime dell'immigrazione, è un giorno che fa memoria di quelli che a bordo della stessa nave forse che hai preso tu non sono riusciti a farcela. Tu che cosa ti senti di dire sia a quelli che come te partono ancora per queste traversate sia invece a quelli che dall'altra parte dovrebbero stare lì ad accogliere? Questa è una domanda che io non ho mai saputo, non dico rispondere perché bisogna trovarti nelle situazioni per capire. Io mi sono trovato ovviamente non in queste condizioni perché loro veramente rischiano e perdono la vita. è una domanda molto delicata perché oggi come oggi c'è tanto buonismo da una parte e tanto rifiuto dall'altra parte e c'è uno scontro di mentalità, non vorrei essere molto diplomatico a tenere un equilibrio. Ovviamente chi scappa, scappa per necessità, scappa dalle guerre, scappa dalla fame, scappa da altre situazioni. e manca una regolamentazione, non c'è una prassi, le cose sono rimaste come 25 anni fa quando sono arrivato io, l'8 agosto del 91. Cambiano i governi, si parla, si parla all'infinito, questo è un virus a lei italiana dove il parlare, il parlare, il parlare, ma mai non c'è una... Sai, mi sa Cledi che forse è un virus che sta diventando mondiale, questa è una brutta epidemia perché purtroppo è una questione anche di governi internazionali, risultati tra l'altro anche sorprendenti Ma io in realtà, se devo essere sincero, non penso che siamo, non penso che siamo stati pronti a stare uniti insieme, forse le prossime generazioni. Io non penso che l'Europa oggi è un'Europa come ce la raccontano, unita perché ognuno ha una sua mentalità, un suo pensiero già il fatto che da una città all'altra non si convive in santa pace figurati tra tanti paesi... E questo ci fa veramente molto dispiacere Cledi, ma forse sei molto vicino alla realtà Io ti dico che se qualcuno non ti avessi accolto, forse noi non ti avremmo conosciuto Cledi E quindi allora, forse forse, questo bisogna riflettere quando pensiamo sempre a costruire le barriere Grazie di cuore, auguri al nostro Cledi Cadini Grazie, grazie Grazie